Ciao in porno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Bologna-Giuventus 0-1 Oggi non si è capito che stava succedendo, a un certo punto non ho capito più Si sta attaccando, difendendo, però a un certo punto il Bologna ha fatto una cosa Che mi stavo per fare la cacca sotto Non ho fatto la mente, ho preso paura Ma il Bologna ha fatto un tiro, parla due volte dalla portiera Il gol di Dybala secondo me è un miracolo Che è andato dentro perché se no è a 0-0 Il Napoli stasera molto probabilmente vincerà contro il Parma Ma secondo me abbiamo fatto una partita decente La nostra prossima partita è col Napoli Al San Paolo praticamente o vinci o muori Ma secondo me vinceremo pure col Napoli Oggi abbiamo avuto la graziata di Dybala che ha segnato Ci ha salvato da un pareggio col Bologna Se pareggi col Bologna hai meriti di andare a fare 40 volte la scarnata più grande della Cina Secondo me abbiamo già troppo fortuna Ronaldo che a momenti segnava il 2-0 ma Scorubschi non so come ha fatto col piede e l'ha buttata fuori L'arberto che non fischiava il 94esimo dopo 4 minuti di recupero Mi va a arrabbiare quando gli arrabbiati fanno così Comunque il video è sicuro qui Grazie per aver guardato l'importante e il crema bingo Ciao Forza Juve